Maria Luisa, parliamo un po' di Bruno. Come hai conosciuto Bruno e che cosa rappresenta per te in qualche modo Bruno? Allora, Bruno è il capostipite secondo me, nel senso che è colui che è il mattatore proprio, vero e proprio, di queste attività. È quello sempre in fermento per riuscire a stimolare tutti coloro che gli sono vicini ad essere produttivi, ad essere attivi, ad essere propositivi rispetto a quello che è appunto l'arte in genere. Lui è un bravissimo poeta, è naturalmente un personaggio molto carismatico, molto disponibile, molto accogliente e quindi io sono fiera della sua amicizia, mi honora della sua amicizia e per me questa è una grande soddisfazione. Grazie.